PADULA L'idea progettuale prevede forme di aggregazione tra imprese commerciali, artigianali e di servizi, insistenti o da avviarsi nel centro storico padulese, così da poter creare il brand e rendere più competitivo il territorio e il sistema commerciale di cui sono parte, attraverso un programma di promozione e sostegno. Simili moderne forme di aggregazione e cooperazione tra operatori economici collocati su una stessa area rappresentano consolidate esperienze sia in Italia che all'estero, in provincia di Salerno, tra gli esperimenti più rilevanti tentati a Battipaglia, Ponte Cagnano-Faiano e Cava dei Tirreni. Di un centro commerciale naturale si era parlato qualche anno fa anche a Sala Consilina, un progetto però mai decollato. Un centro commerciale naturale per riuscire non può prescindere da alcune condizioni, la predisposizione dei vari soggetti coinvolti a fare squadra, un'offerta di qualità. La capacità di sapersi proporre è una location di valore storico-artistico che faccia da appeal. Su quest'ultimo punto Padula non ha nulla da invidiare a nessuno, tutto il resto lo dimostrerà qualora l'idea diventi un felice esperimento.